Chissà se questa sarà l'ultima chance, un altro tarantino nella giunta regionale di Michele Emiliano a rappresentare le istanze di un territorio che ha bisogno estremo di avere qualcuno in giunta lì a Bari. Ci sono provvedimenti importanti, il rilancio del porto, l'attenzione del grosso gruppo turco che si avvicina al nostro porto, il varro della ZES, nella Fatti Special, la ZES Ionica insieme alla Basilicata, provvedimenti importanti, l'aeroporto di Grottaglie, strumento importante non soltanto dal punto di vista industriale e abbiamo appreso anche dalla novità per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura collegata, voglio dire, a Lenia e a Leonardo, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la possibilità del varro dei voli civili passeggeri. Insomma, un'economia che può svoltare e che serve di una regia della regione. Ecco perché è importante avere un rappresentante politico della provincia di Taranto per dare ancora maggiore forza a questo progetto. Ecco, un progetto che è quello di presenza di Taranto nell'ambito della politica regionale che ha bisogno anche del sostegno di tutti i consiglieri regionali del territorio. Cosa manda a dire ai suoi colleghi? Facciamo squadra comune. Io quando sono stato eletto consigliere regionale una delle prime cose che abbiamo fatto è che abbiamo fatto un incontro con tutti i parlamentari regionali tarantini. Penso che si sia sprecato un'occasione importante in questi anni di non dare forza a quel progetto intelligente e virtuoso che i colleghi Liviano e Mazzarano da assessori precedenti avevano lanciato. Certo, abbiamo fatto la legge per Taranto con un grande grazie ancora al collega Gianni Liviano che ha lavorato tanto per la realizzazione. Ora dobbiamo riempire di contenuti quella legge e quindi è importante stare tutti quanti insieme. Ecco, questa sera la riunione di tutte le associazioni che trattano di accoglienza del nostro territorio che guardano con preoccupazione al decreto Salvini. È una cosa assolutamente sbagliata dove c'è tutta la nostra contrarietà, la nostra ferma contrarietà e la presenza anche qui questa sera è la dimostrazione, la testimonianza che bisogna cambiare pagina non è questa la politica che bisogna seguire per l'integrazione.